Sono un vero amore Ecco le mie mani Per aiutare chi alzarsi non può Sono un vero amore Ecco qui i miei piedi Per andare da chi camminare non può Ecco la mia voce Per tutti coloro che Ascoltano col cuore di Dio Ecco qui i miei occhi Per tutti coloro che guardano con gli occhi Di Dio Solo per amore Ecco qui il mio cuore Per amare chi Non sa amare più Solo per amore Prenderai il mio cuore E prendi la mia vita E tutto quel che ho Ecco la mia voce Per tutti coloro che Ascoltano col cuore di Dio Ecco qui i miei occhi Per tutti coloro che guardano con gli occhi Ecco qui i miei occhi Per amore Per amore Per amore Per amore Per amore Signore e signori è un onore per voi perché stasera Giada, nobile, ti raggiungo Giada, ti raggiungo e ti ringrazio naturalmente per questi momenti bellissimi che ci hai fatti vivere, io ti guardo, sei in un'unta come madre Teresa, però tu hai il dono della giovinezza, questa giovane ragazza ha solo 28 anni e ne ha fatte di cose, avete sentito prima, quanto le chiedo questo vestito le è entrato nell'anima? Tutto quello che ti dà questa sera, queste meravigliose persone, io tra l'altro è la terza diciamo così performance che faccio su questo meraviglioso palco, chiamiamolo così, ed è sempre molto emozionante, ve lo posso assicurare, ho dei meravigliosi ricordi qui, soprattutto per i grandi pensieri positivi che le persone che sono qui davanti a me questa sera come nelle altre due serate che ho fatto qui mi hanno veramente emanato, io sono veramente emozionata, ringrazio tutti perché chi sta su questo palco, chi sta sui palchi non è nessuno se non ci sono persone davanti come voi. Giada, si pronunciate pure l'applauso che naturalmente merita tutto, Giada, anch'io mi associo naturalmente e ti elogio, se non fosse che il tuo è un dono di Dio, il tuo talento, la tua voce è un dono di Dio, quindi possiamo dirti bravissima e sappiamo che il tuo non sarà un vanto personale, ma sarà comunque un desiderio di ringraziare chi ti ha fatto questo grande dono della voce che è Dio. Assolutamente. Ecco, e io finisco di emozionare Giada se me lo permette con una piccola nota personale, io vedo molte persone presenti qui in Basilica, in questa meravigliosa piazza questa sera, vedo anche degli ammalati e io so perché tu fraternamente me l'hai rivelato confidenzialmente prima che anche la tua famiglia in questo momento è toccata dalla malattia, allora chiediamo insieme a queste persone una forte preghiera per te e per la condizione di malattia che tocca la tua famiglia, se vuoi parlarne Giada, altrimenti lasciamo solo la richiesta di preghiera a tutte queste persone, sei d'accordo? Io penso che non ci sia bisogno, poi capita purtroppo di avere in famiglia delle persone che non stanno benissimo, che magari non potranno riprendersi al 100%, però per esperienza personale io cerco di vedere anche nella malattia, anche dei lati positivi, perché ci sono, perché le persone che non stanno benissimo sviluppano qualche altra cosa che è la sensibilità e io prima ho avuto la prova perché una signora mi ha abbracciato, io non so nemmeno perché sono andata verso la mia signora, magari ha avuto bisogno quanto me di avere un abbraccio reciproco, di non disperare, perché la vita è comunque vita e va comunque vissuta con tutta la dignità del mondo, non è detto che una sedia a rotelle non possa dare la dignità, assolutamente. E allora noi ti assicuriamo la nostra vicinanza e la nostra preghiera Giada.